Buon pomeriggio a tutti. Adesso vi mostreremo alcuni dei lavori che i ragazzi hanno fatto nell'ambito della programmazione di inglese. Iniziamo con due video sulla seconda guerra mondiale nel Regno Unito e poi ci saranno due rassegne antologiche di quelli che sono stati i lavori fatti dai ragazzi relativamente a delle esperienze vissute da loro, cioè la gita e la loro infanzia. Buone visione a tutti. Grazie.